Super Vacanza vi invita a prenotare nei nostri appartamenti a pochi chilometri da Santa Teresa a Gallura ubicato nella parte più vicina al mare, nella Baia di Santa Reparata, villette indipendenti o a schiera distribuiti in unità residenziali a due piani, affacciati sul promontorio Capotesta. Gli appartamenti, completamente igienizzati, sono dotati di tutti i comfort. Inoltre nella Baia di Santa Reparata si trovano piscina, mini market, negozi vari, ristorante, bar, parcheggi e Santa Teresa dista a circa 3 chilometri. Con noi viaggio e pernottamento sono assicurati da una grande professionalità e un grande amore per la Sardegna. Vi aspettiamo per una grande vacanza. Ciao a tutti da Pollessanti, Super Vacanza Italia. Beh, io direi che è una buona scelta. Vi aspetto in Sardegna. Grazie a tutti.